Rimani aggiornato sulle notizie di Gossip, Cronaca, Reality Show, Sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Delia Duran è entrata nella casa del grande fratello Vip per incontrare il marito Alex Belli, nelle ultime settimane. Infatti, l'amicizia tra l'attore e Soleil Sorge si è fatta ancora più intima, nonostante le continue smentite tra i due. Motivo per cui Delia ha deciso di affrontare una quarantena di sette giorni per parlare faccia a faccia con Belli all'interno della casa, soffro e ho sofferto tanto per tutto quello che si è detto fuori da qui su di voi ha iniziato Delia, con Alex bloccato dal freeze per te forse non è così, ma devi sapere che voi siete sotto una grande lente di ingrandimento. Sono stata la prima a invitarti a fare questa esperienza per dimostrare a tutti l'artista che sei però capisci che alcune cose sono troppo. Io sono qui perché voglio che tu mi spieghi il perché di questi comportanti. Una volta sfrezzato, Alex è corso dalla compagna per abbracciarla, ripetendole ancora una volta di non avere paura della loro amicizia. Io amo solo te, con Soleil non c'è nulla. Fidati, dice Belli la nostra è solo amicizia. La tensione tra i due si scioglie subito dopo con un bacio appassionato. A quel punto, entra in casa anche Soleil che prova a rassicurare Delia dopo gli scontri avuti con lei nelle scorse settimane. Non devi aver paura ha detto l'influencer il suo cuore è soltanto tuo.